Il primo è la prima maniera di roma, signori. In la quinta posizione il genio di Mauro, il barbeo Cassi, la rosa di Bagna Delisio, al quarto posto la loro alberate in massimo, e chiede della migliore c'è terza, al quarto posto Asia Catarano, al secondo posto Irohna Grigione e Valentina Grigione quinto e terzo se giudicano i miei compagni sono i miei compagni sono i miei compagni della Rosalena della Stigione Under 15 cd 3.2 unificate